benvenuti ragazzi in questo mio primissimo video di presentazione io sono uno degli admin della pagina della pagina del canale elson network che si legge il suo network sono l'admin di cartone si sono qui per farvi vedere la mia faccia abituatevi perché io sarò sempre lì a farvi dei giochi indi dei giochi pazzi dei giochi strani dei giochi nati dal schifo del mondo che altro dire vi aspetto sul canale iscrivetevi al mio canale che non troverete sovraimpressione perché non voglio è perché sto imparando le basi di sony vegas quindi non me lo smetterò non sto scherzando non tenete i miei occhiali fantastici che userò per fare i giochi pazzi in ogni videogioco mi medesimerò cioè tipo se sarà un gioco fps mi vestirò da soldato se sarà un gioco di dottori mi vestirò da dottore per esempio beh il video termina qui ci vediamo sul canale ciao ciao a tutti ragazzi sono peppe ovvero come tutti voi mi conoscete sono black e mi potete chiamare o peppe o peppo o black come siete abituati voi a loro questo è il mio video di presentazione per il nostro canale elsio network fatto da me xwable videogamer ovvero xwable99 e poi gli altri due membri che se vi ricordate mi hanno fatto una intro un pari tempo fa ovvero xxeven19xx ovvero samuele ed uorvi allora su questo canale qui faremo usate comunque l'aspetto aperto mondo però fa caldo ragazzi il caldo qua mi sta uccidendo della madonna si vede anche il riflesso del sole qua oddio comunque faremo gameplay di vari generi basta anche inviarci un messaggio su chiederci cosa faremo cioè su che giochi ci consiglierete voi ci consigliate voi ad esempio faremo giochi sparatutto video horror giochi bastardi io oggi inizierò già due giochi molto bastardi ovvero cat mario e alpha mario che saranno i primi video che caricheremo li inizierò tra poco e niente io spero vi diverta comunque iscrivetevi al canale ragazzi mi raccomando e lasciate un bel mi piace al video ciao a tutti ragazzi qui è blazy silver 999 e oggi sono un coglione perché non ho facendo la registrazione che ho passato a su able cioè io quello che lo sta doppiando non ho registrato l'audio quindi sono un gran coglione e quindi sono io qua a doppiarlo bene ora parlerò in terza l'ultima persona che lo piti di essere blazy silver allora io sono un youtuber che tratterò di giochi horror sicuramente tratterò di slender del rival altri tanti giochi e giochi vari farò anche cop con gli altri gamer del canale e poi farò anche spero silent hill poi farò potrò fare tanti altri gameplay horror stiamo lavorando per ora delle intro un bg e un avatar decente perché su able non lo di sa fare e tanto dire video piace qui ciao a tutti ci vediamo nel canale